Siccome ho detto Shakiri e Santon li terrei e invece... Sì, li terrei come giocatori. Ho visto anche Guarin, non so chi lo voglia tenere. Santon è l'altro sì, il piccoletto è meglio che vada via. Il piccoletto sarebbe? Shakiri. Perché? Ha deluso? Non so, non serve a nulla all'interno. Secondo me Guarin non ha reso mai per quello che vale. Quindi vari Santon, Shakiri invece li terrebbero? Shakiri no, era partito bene, poi dopo c'è avuto un calo grosso. Santon lo terrei? No, sicuramente sì. Prima di tutto è italiano. Secondo è un ragazzo che secondo me deve essere motivato. Darei via Gesù perché per me serve a poco. Io siccome sono italiano, vorrei rimanere italiano. Piacerebbe anche che sta Inter, avesse qualche giocatore italiano. Santon, io terrei Santon, Shakiri no, lo venderei. Sacrificerei anche Guarin e mi terrei Kovacic, stretto, che magari l'anno prossimo vale anche quei 20-30 milioni in più. Se fa un buon campionato quest'anno io lo terrei volentieri. Hai letto che c'è stato qualche striscione dei tifosi su Santon e Shakiri, tu li terresti entrambi? Entrambi, anche Kovacic. Anche Guarin? Sì, magari sacrificerei Shakiri proprio così al brucio, perché tanto ho visto in allenarsi non sta rendendo. Kovacic, tengo. Darebbe poi? Sì. Gli altri? Gli altri darei via D'Ambrogio assolutamente, è Ranocchia. Non lo posso più vedere. Preferivo più Santon e Shakiri. Shakiri via, per me sì. E Ranocchia deve rimanere all'Inter? Sunti fosse Ranocchia, deve rimanere forse inter.